La misura del tempo di intervento e della corrente di intervento dei differenziali Nella modalità RCD la misura del tempo di intervento e della corrente di intervento dei differenziali E' possibile con il tasto MODE PICK cambiare la corrente di intervento che applicherà lo strumento Con il tasto FUNC HOLD è possibile invece per i differenziali a 30 mA misurare quando questo simbolo è presente sul display la corrente di intervento Noi ci siamo già collegati su un differenziale da 300 mA Con il tasto GO effettuiamo la verifica del dispositivo OK 46 ms E' possibile